La rottura forte è stata perché il segretario Mastella ha rotto diciamo con il presidente Cirelli perché il presidente Cirelli disse io non mi metto contro il consigliere provinciale se non trovate l'accordo io non do niente a nessuno e così è stato. Quindi il fatto di non tra virgolette ubbidire al comando del segretario Mastella ha fatto sì che iniziassero delle divergenze tra il presidente Cirelli e il segretario nazionale Mastella. Mastella voleva che io prendessi posizione contro il presidente della provincia senza motivazione concreta. La gente ci ha votato, ha votato Giovanni Fortunato insieme al presidente Cirelli per capovolgere la provincia di Salenne in senso positivo, di iniziare un percorso nuovo perché da vent'anni questa provincia governata dal centro-sinistra era lo sbando totale. Abbiamo una crisi occupazionale forte, abbiamo una crisi profonda rispetto all'infrastruttura abbiamo dei ritardi profondi su tutto e quindi la gente ci chiede questo non ci chiede spartizione del poltrono. Il problema è stato sulla spartizione di qualche poltrono. Io non posso andare contro la provincia che ho l'onore di rappresentare insieme al presidente perché appena è da poco che abbiamo iniziato questo nuovo percorso stiamo lavorando affinché finalmente questa provincia dia una risposta certa perché sono convinto che la provincia di Salerno è una provincia forte grazie al presidente Cirelli possiamo essere rappresentativi, ci possiamo liberare lo dico io, questo è un mio pensiero da Napoli, Avellino e Benevento perché da 50 anni siamo comandati puntualmente dai signorotti politici di Avellino, Napoli e Benevento. Ora bisogna dire basta anche perché la provincia di Salerno è la provincia più forte che può essere sicuramente il motore del rilancio economico dell'intera regione campana. Questo spetta a noi, io penso che la nuova classe dirigente fatta da persone nuove ha questo compito e questo dovere verso i nostri elettori e soprattutto verso le future generazioni altrimenti questi territori saranno spopolati perché la crisi profonda è l'occupazione. Il resto sono chiacchiere, chiacchiere da salotto che ovviamente a una certa età il politicante che ha vissuto per 40 anni di politica facendo il politichese quindi probabilmente questa esigente non li sente perché non sta più in mezzo alla gente, in mezzo alla strada.